Ciao a tutti ragazzi da TFG, io mi incazzo tantissimo, a parte il fatto che oggi apriamo un ball super magico, ma prima, prima io mi incazzo con la supercell perché, 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 la supercell, perché guardate, cos'è che utilizzo io, meccasguerro, parlo con Edoardo, mastino, guarda, guarda che fastidio, arriveranno il 30 novembre, meccasguerro, danni ridotti, velocità di colpi, già è lì, velocità di colpi rallentata, da 1 a 4 secondi, a 3, De merda, a 1 a 4 secondi, da 3, a 1 a 3, cosa sta dicendo? Calmo, fermo, silenzio, andiamo sotto, mastino lavico, punti ferita dei cuccioli, laveci ridotti dell'1% e vai, tutte le truppe così ogni volta, ma perché lo fate? Perché lo fa? Ma perché? Ascolta, è perché tu trovi deck troppo perfetti Ah, ho capito, ho capito, comunque adesso, fino a che al 30 novembre posso fare ancora il mio cazzo di deck, quindi adesso faccio così, vado qui e mi compro sti cazzo di bavule super magici, andiamo Ok ragazzi, l'ho fatto, ho acquistato, quindi 2700 di oro per me, andiamo avanti, è un super magico dell'arena 7, ero nell'offerta, razzo, non me ne frega niente, barbari scelti, bene, bene perché li posso aumentare anche se non li uso Non ho ancora livello 7, hai visto, il bule crasso, eh tu abbiamo questo qui leggendario, magic, super magico, super magico, cavaliere scarica, oh bene bene bene, la vorrei a livello 11, oh mio, io c'è ancora a livello 10, anche io Ok, estrattore, estrattore che l'hanno aumentato di lesire, adesso lo tornerò a modificare, non so neanche la super side come fare questi cazzo di estrattori, andiamo avanti, abbiamo carta rara, rapide, ti prego la leggendaria, ti prego, no, no, era tornata, la leggenda 4 se posso fare a livello 4 aspetta un attimo però vedi che usando questo non questo vedi che ho messo i barbari però fresco questo sinceramente con il mini pecca beh passi dove si dovessi trattornato dove la metto ma non piace io non voglio la tornato cura prima il buro della corona ragazza che visto che ce l'ho oro senso e mirra cartesla ok altri barbari scelte non posso ancora non lo voglio non lo voglio la carta lì non la voglio ok sbattagliamo subito ragazzi con questo tecchio spacco devasto mi piace un sacco dell'indipendenza no questo è il deck non mi ricordo più come l'avevo chiamato scrivete in un commento questo è il deck di aramis merda palla di fuoco il terminatore muore subito eh ridi ridi piangi cioè non ridi tanto cosa mi togli 50 la torre bravo adesso mi togli un po di più però dai cazzo mega scherro che giustamente l'anno lo rallenteranno già è lento come la torre ma non ci credo la torre di fuoco aspetta va la palla di fuoco no io ho tirato la palla di fuoco io so volare io so io so io so io so notizia tragedia del mondo di youtube taylor non sapeva volare adesso è bello che lo so che ha visto superino capire sta aspetta 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 adesso lui come gioca vediamo un po' facciamo così andiamo tre moschettieri dai 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 tira la palla di fuoco uno tira la palla di fuoco ah la stronza per essere sicuro per essere sicuro ma donna anche adesso sono inchiappettato malissimo perché è scusato il mio cobbling è scattaiolato è passato sotto fighissimo adesso cosa faccio sono un po' nella cacca la cacca più totale testo allora c'è così mega scherro è buono per te ok ucciso un sgherro un altro sgherro adesso lui è la torre inferno eccola lì neanche detto proprio che la scarica adesso la scarica ora 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 zam per da quelli stronzi di quelli stronzi e niente sono sono un po cacca ma vedo che funziona male solo dopo dopo la giornata no è un caso ragazzi è un caso che giustamente quando faccio il video sapete benissimo che la super se fa di tutto per farmi perdere esatto da muori regginetta del cazzo ok ad essere gente del cazzo del mondo più grande no è vera principessa sul pisale del cazzo aspetta l'ha già usata no lato l'inferno simon mi ha già fatto no ma non ci credo devi contare sempre tre carte alla terza carta c'è già che poi metto lavoro in carlo mentre ragazze niente ho perso non c'è non ha modo di attaccarlo è impossibile e siccome è che molto offensivo è il mio sono sempre così proviamo ragazzi proviamo proviamo proviamoci proviamo così a altro cosa è tutto perfetto si però lo stesso sta perdendo male vedi vedi i tre moschettieri anche vanno anche bene però basta che abbiamo una torre con una palla di fuoco dai mini pecca dai su adesso lui al gruppo di scretrini e quindi guarda ecco sono rimasti tre vivi perfetto perché giusti per distrarti non ha sbagliato guarda dove ha messo il minatore vedi che sono stronzi che io scrivo ops ma anche loro fanno così adesso faccio un'altra partita e se la vinco gli scrivo ops ma non si interessa niente quello che prendi adesso non mi interessa niente scusa io non vedo chi c'è da altra parte potrebbe essere la stessa persona eh si con multidec con multidec cosa cosa mi fai con multi account scusami ops ecco comincio subito a scrivere ops io ragazzi adesso vinco allora mago di ghiaccio perfetto come lo facciamo per mago di ghiaccio ma aspetta tor infernale no tra tre ma non è possibile ma perché lo fanno c'è perché perché devono fare guarda anche pure quello pure quella anno è una propria inseris la cosa ideale sarebbe la frecce giustamente quando non è possibile io spero solo che non abbia parla di fuoco perché altrimenti è la fotocopia del deck di prima è praticamente con una differenza forse minatore si struttura matore o bastardo cattivo hai visto attività dai uccidi quel cazzo di strozo il partito si è appassionato di mettere ops solo quando almeno lì dato un colpo lato vabbè fino adesso non ha mai colpito lato no gli ha dato un colpetto perché non è più a 2700 è giusto perché al 2711 che 2783 no gli ha dato il colpetto col cucciolino lavico che giustamente poi ridurranno di vita nel prossimo aggiornamento come figo come se non avesse ancora abbastanza poca vita comunque non mi pare che abbia il giusto la palla di fuoco no non l'ho ancora vista sulla sincera no no nei fatti quindi scusate un punto di storia ancora che mi spizza la valkyrie visto è una solita cosa la tua testa sta cosa della valkyrie che la puoi spostare con le truppe piccole mi fa voglio vedere se era la stessa cosa possibile con i barbari corazzotti adesso devi vedere cosa meglio questa è una bella giocata giusto giusto però non è impossibile fermarlo ecco questo è il punto marino bastardo dai colpisci per la torre il suo relatore inferno è esatto è il mago di ghiaccio che mi rallenta quindi come fermato l'inferno come l'ha brutto giù devo usare il bastiglio che poi alla reginetta eccola lì fa una brutta fine che fa una brutta fine perché veramente mi rompe le palle metti metti i cazzetti quelli ok perfetto questi così mi zappa male perché zappi però mi rallenta un attimo tantissimo ho capito questo questo un casino di truppe al 2 vedi ok zapp ok adesso la torre inferno va giù subito perché il mini pecca la butta giù ok va bene va bene dai cazzo dai però mini pecca eh butta la palla di fuoco eh adesso palla di fuoco lì così magari questi muoio guarda che c'è la reginetta che mi c'è adesso anche i cuzzoli grazie che bella giocata però lo stesso eh comunque non riesco a fargli molto perché lui c'è la reginetta che mi colpisce a donna i cuzzoli l'abici ok ma è moschettieri come me li aveva uccisi prima quei barbari e ti prego uccidili ok spara con le cose lì perfetto sappiamo la regina ok perfetto bene bene adesso hai barbari e niente i barbari ma cazzo faccio ca porca puttana niente questo ok questi anche dai 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 domatore muori bene 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 palla di fuoco dove la palla di fuoco niente ragazzi niente è difficile molto molto difficile perdo sta partita ok niente mettiamo il mega sgher magari con il mega sgher riesco a decidere la reginetta deve morire subito no un pulo sì però quanto resisterà la torre la prossima reginetta un colpo è andato giù no boh sono due colpi sono il domatore che preoccupa ciò vedi mamma mia che stress ragazzi eccolo lì ho perso non ho niente per ucciderlo prima per così doppia parla di foto trap niente sapevo di ragazzi sapevo ma no adesso provi tu il mio deck no ma sicuramente mi fa schifo stu deck ma no no è fortissimo credetemi questo è che è fortissimo io il mastino non mi piace io sono arrivato a 3200 trofei con questo e succede purtroppo che ogni tanto vabbè devi perdere perché giustamente crash royale ti mette gli stessi deck tre volte di fila guarda cazzo cosa fai tu ma per difendertelo perché non così tre moschettieri sono potentissimi cos'è 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 perché ti hai ragionato le truppe perché c'era lo ah c'era lo spiritello del ghiaccio ok ok lì una moschettiere palo infuocata allora lui ha domatore abbiamo detto sì domatore spiritelli del fuoco del ghiaccio moschettiere ok e adesso vediamo adesso vediamo intanto è già tolto mezzo tra la torre con quel cazzo di mega sgherro che giustamente rallenteranno però secondo me non ci arriva più no ma non devono perché è già lento è già tanto lento c'è fatto to me troppo lento adesso lo mette questo e dopo e dopo vedi cosa si prova morti ma ma stimi di tre cose di tre stronti ora che ha messo quello per incertire troppo ok al barile ok va bene al barile adesso muore ok aspetta adesso metto questo no metti il mini pekka davanti sì 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 esatto davanti moschettiere perché al mini pekka distrae intanto i moschettiere uccidono tutto è una cosa che fa ha un rimasto vivo e guarda che un ora tanto danno è bene 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 ovviamente per l'hanno fermato però ci sta adesso devi usare il mastino però sì lo so il mastino in una cesta che vediamo il problema è che lui ha il domatore e il barile butta la butta la butta la butta la butta la tanto tu hai il gruppo di sgarri ora che domanda arriva qua il gruppo di sgarri che in 22 ecco lo guarda la scarica giusto da no a giusto non hai desideri aspetta 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 questo anche metto megas garmi in mezzo agli scarri big grassi da quali la stronza lì questo non è una femmina è una femmina che il moschetti era una femmina guarda se mi ha scoperto giuratore perfetto e adesso aspettate per il nome delizio di metto in mezzo lì capito così loro vanno a colpire stare attenta che lui usa sempre discorso del ma non aveva lui attacco con l'attacca allora mi seguo questo lo stavo con attaccare ma hai salvato la torre ok sì ma per quanto tempo a mini pecca dall'altra parte della media di ritoria non è di ritoria non è di ritoria ok a megas garmi rometti da se a bastardo zappali però alcuni rimangono vivi a mente è morto ha detto non è buono non tutti grazie che palla strava fa niente metti mastino dietro i diretti cane mastino dietro i moschettieri vai mastino dietro i moschettieri su di scuola mentre ti attaccherà che vorrei difenderti con quelli esatto ok che cazzo la divisa ha sbagliato mini pecca uccidere il domatore aspetta mini pecca uccide il domatore con due colpi ottimo adesso aspetta che ha di avere 9 lo metto al centro e non lì no 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 mettilo dietro metti dietro ecco aspetta ora ora perfetto adesso non ha più il razzo non ha più il razzo non ha più il razzo attento la scarica l'intero私azzo mio nazzo che palle ok perfetto lo c'è si dice così che c'è no che palle o ha tutto per un tipo di video è incredibile tutto al momento la qualche roba per con quanto ho avuto io oh carri ok morti mettoni mettoni il papa merda maggio niente ragazzi se non mi piacciono 3 scelta e vi assicuro che con questo day che vinco il 90% delle partite ma quando non faccio video ciao a tutti e al prossimo video io sono arrivato in una leggendaria quando non registravo e casualmente l'account si è cancellata e ripristinata non è rima è stupido mi arriva ma cazzo ce l'ho ce l'ho le prove no adesso ce l'hanno le prove ciao a tutti al prossimo video